Amiche e amici salve a tutti e come sempre ben ritrovati. Oggi in questo nuovo video mi esibisco in una nuova autopsia relativa a un utensile Parkside. L'ho comprato qualche tempo fa, si tratta di un mini compressore ricaricabile, non ha la classica bombolona che funge da serbatoio ma semplicemente tutto quanto consta in quest'utensile che vedete tra le mie mani. L'ho comprato in abbinamento con un piccolo soffiatore che vedete qua nella confezione raffigurato che solitamente si utilizza per gonfiare materassini, piccoli canotti e quant'altro che non necessiti di una pressione di gonfiaggio di chissà che entità, per tutto il resto c'è il compressore che per appunto comprime e comunque poi in un secondo momento andremo a fare magari anche l'autopsia dell'altro per vedere com'è fatto dentro. Ora io sono realmente molto curioso perché si tratta di un prodotto teoricamente molto interessante, poi bisogna vedere vista la marca anche quanto va a durare. Per così prevenire anziché curare voglio farmi questo controllo, questa verifica di com'è fatto dentro, ora acce il sereno prima di essere poi preso alla sprovvista un domani quando possibilmente mi va a presentare qualche difetto. Per lo smontaggio semplicemente si vanno ovviamente a rimuovere tutti quelli che sono gli accessori che vanno rodeando l'utensile, quindi il tappino sulla bocca d'uscita e ovviamente la batteria. Andiamo a identificare quelle che sono le viti che vanno a serrare le due scocche, in questo caso vedete alla base della batteria ne troviamo due, altre due sul manico e poi ce ne dovrebbero essere quattro, almeno in teoria, sulla parte superiore. Qui sotto l'adesivo a tatto non percepisco nulla. Da dire che poi si trova questo adesivo qua sopra che dovrebbe essere anche un'anti apertura diciamo, che comunque faremo attenzione a non danneggiare. Quindi per eseguire questa autopsia io mi avvalgo come oramai di consueto faccio dei miei fedelissimi kit, uno della Wolfcraft e l'altro della Milwaukee che praticamente forniscono dei bit di buona qualità, devo dire finora non mi sono mai potuto lamentare e vabbè io qua ci ho messo anche un bit reduce da un altro Parkside e andiamo ad aprire tutto quanto con le dovute cautele. È importante che durante l'apertura facciamo caso a riporre tutte le viti praticamente nell'ordine in cui le smontiamo perché magari ci possono essere delle piccole differenze di misura che poi quando andiamo a richiudere tutto potrebbero farci, potrebbero crearci dei problemi per quanto riguarda un corretto serraggio. Ora io inizio ad aprire in maniera perimetrale, ora qui il bit non mi arriva fino in fondo quindi ne devo usare uno un pochino più lungo e per questo mi avvalgo proprio del kit della Milwaukee nel quale sono presenti se riesco a estrarlo perché sono belli infianti duri, uno che arriva praticamente ovunque. Ora il set della Milwaukee è un set per avvitatori a impatto però voglio dire anche manualmente ci consente di lavorare molto molto bene anzi a maggior ragione ecco vedete sono anche calamitati questi a maggior ragione abbiamo una garanzia superiore per quanto riguarda la resistenza dei bit nel momento in cui andiamo ad affrontare l'impronta delle viti. Ok togliamo la seconda andiamo in un ordine che consente un'apertura progressiva è importante non aprire mai soltanto da un lato ma andare a cercare di fare un'apertura che comunque non vada a sforzare soprattutto l'ultima vite e soprattutto chiaramente la filettatura sulla quale essa è assicurata perché poi volendo quando andiamo a questo l'aperto quando andiamo ad aprire le scocche chiaramente un minimo di forza la applichiamo non sia mai dovessimo dimenticarci una vite o andare a sforzare un punto particolare beh lì si potrebbe verificare anche una rottura queste scocche non sempre sono perfette e comunque destinate a essere aperte così dall'utente quindi il tecnico conosce i punti deboli noi al momento no allora dovremmo aver liberato tutto ora aprendo quello di cui ci dobbiamo premurare qui mi faccio un pochino di spazio e soprattutto di evitare che ci possano essere delle delle molle solitamente sono sul grilletto che possano essere sparate chissà dove poi andando a creare problemi al momento della chiusura io semplicemente a mano senza fare particolari leve sto aprendo le scocche ora c'è l'adesivo qua sopra che non ho rimosso vediamo se riesco a rimuoverlo o se è necessario magari ok no non è necessario perfetto cerco di mettervi tutto a favore di camera allora che cosa abbiamo qui avvicino alla telecamera se riesco così vi posso mostrare perfile per segno quello che è il contenuto interno alle due scocche qui dietro abbiamo chiaramente i contatti relativi alla batteria quindi abbiamo due cavetti un positivo e un negativo che vanno direttamente o perlomeno uno va direttamente al motorino questo il motorino che consente il movimento di questa ruota che poi trasmette a sua volta il movimento a questo pistoncino di plastica che poi cercheremo di andare a vedere un pochino meglio qua c'è il grilletto è il secondo cavo anzi ce ne sono tre cavi va direttamente alla scheda che gestisce praticamente la cosiddetta elettronica del nostro compressore sto cercando di staccare ce l'ho fatta l'adesivo in modo da potervi meglio mostrare il tutto questa scocca praticamente resta priva nuda di qualsiasi meccanismo o parte elettronica ora vediamo un po' come va qui il discorso qui abbiamo due anzi tre addirittura fili in in arrivo di cui praticamente quello che va da questa parte al al motorino ma anche l'altro praticamente vanno dal contatto della batteria direttamente alla schedina elettronica che poi viene gestita tramite questo display e poi c'è il ritorno al motorino il motorino ovviamente ha un rotore qui sotto abbiamo una ventola di raffreddamento piccolina vedete non è diciamo fondamentale per il funzionamento ma sicuramente un aiuto per un uso anche prolungato e qui abbiamo l'ingranaggio in plastica plastica che comunque solitamente si usa a basso coefficiente d'attrito che poi trasmette il movimento al pistone qua vedete c'è la biella del relativo pistone che sta là dentro ora purtroppo non riesco a farvi vedere spero io ci provo girando magari il pistone ecco vedete punto morto inferiore qua c'è il pistone e mi pare di intravedere anche attorno al pistone una parte un pochino scura forse sarà uno ring di tenuta e questo praticamente il suo cilindro questo tubicino qui invece dovrebbe rappresentare il sistema di pescaggio dell'aria che poi viene aspirata e compressa non vorrei dire una sciocchezza ma da questa parte non vedo altri fori di aspirazione per giusta regola si potrebbe essere un foro di aspirazione in prossimità del punto morto inferiore del pistone che poi insomma viene chiuso nel momento in cui il pistone va a salire ma in ogni caso vedete il sistema è molto molto semplice qua c'è sempre una gestione elettronica vedete probabilmente qui ci sarà una piccola valvola di non ritorno quindi da una parte aspirerà adi e poi nel momento in cui il pistone si trova in una determinata posizione va a chiudere un sistema miniaturizzato che devo dire è molto molto interessante criticità criticità come sempre ne possiamo individuare nelle parti elettroniche che chiaramente sono suscettibili a quello che il discorso umidità e acqua in genere e quindi occhio laddove utilizzate o conservate questo tipo di utensile in ambienti umidi proprio perché io ho già avuto problemi per la semplice umidità muraria che mi ha attaccato alcuni utensili qua ci sono due mini condensatori vedete e poi tutte le piste in questione altre criticità fondamentalmente non ce ne sono questi sono tubi di gomma che hanno comunque una durata abbastanza estesa solitamente un tubicino di gomma di questo tipo si rovina in 4 5 6 anni quindi niente di preoccupante da questo punto di vista e sostanzialmente devo dire che sembra ben fatto altri discorsi chiaramente possono preoccuparci per quanto riguarda un uso particolarmente prolungato che andrebbe a riscaldare in particolar modo quello che il cilindro quindi creando un attrito con il pistone il cilindro diciamo che a lungo andare la durata la bontà di questo mini compressore potrebbe andare a ridursi però chiaramente capirete benissimo anche voi che si tratta di un utensile di supporto non potete di certo pensare di andare a gonfiare una a mettere in pressione una bombola da mezzo litro con un compressore del genere anche nelle istruzioni si parla di uso per quanto riguarda ad esempio pneumatici di biciclette di piccola dimensione identità non si parla nel manuale di istruzioni di andare a utilizzarlo per gonfiare pneumatici di autovetture anche se comunque voglio dire a meno che il pneumatico non sia completamente a terra diciamo che una opera di aggiustamento del gonfiaggio si può fare tranquillamente a mani estremi estremi rimedi come si dice nel caso in cui abbiamo sofferto una foratura e ci tocca gonfiare completamente una ruota beh sarà cura e opera intelligente andare a effettuare diverse pause tra uno step di gonfiaggio e l'altro per evitare proprio il surriscaldamento di tutto quanto l'utensile in generale che vi posso dire è un prodotto interessante poi il discorso che chiaramente bisogna affrontare un pochino come tutti quelli che sono i prodotti parkside è l'affidabilità il corretto uso è il discorso garanzia in caso di problemi di per sé non sembra avere nessuna pecca evidente non ha necessità di ingrassaggio anche perché ripeto non si tratta di un utensile che deve lavorare per molto tempo consecutivo quindi diventa interessante eventualmente possederlo utilizzarlo per delle piccole esigenze d'accordo in ogni caso un domani se ne verificasse l'esigenza questi sono motori che comunque si trovano sia su amazon sia su siti come alibaba bisognerà poi misurare le caratteristiche qui non lo vedo ma probabilmente nella parte opposta ci saranno anche dei codici identificativi di questo motore per quanto riguarda potenza e tipologia e si può smontare tramite queste due vitine che trovate là sotto spazzole integrate quindi non sono sostituibili a fine vita delle spazzole si cambia tutto il motore e la cosa si va a perpetrare l'utilizzo si va a continuare nel tempo d'accordo con questo è tutto spero di avervi potuto offrire una un minimo di panoramica di questo utensile ripeto interessante ma comunque da valutare come qualsiasi altro acquisto che si fa per questa marca o per altre d'accordo con questo è tutto ripeto un saluto e alla prossima ciao